A Sommarmo organizza corsi di formazione in servizi credito e aziendale, finanziamenti artigiancassa, mutui ipotecari, finanziamenti personali, finanziamenti regionali agevolati, cessioni del quinto, servizi assicurativi, RC auto, polizza vita, infortuni, corsi somministrazione e bevande, corsi sicurezza e HACCP. Per info e contatti Federico Greco, Presidente Nazionale a Sommarmo, 349-6142-305, info-assommarmo.org, presidenza-assommarmo.org.